A passare al setaccio le procedure che hanno portato alla realizzazione del covid hospital in fiera delle vante ora. Non sono più soltanto giornali e forze politiche, la novità è l'inchiesta aperta dalla procura di Bari. Indagine esplorativa si intende e non con ipotesi di reato, ma già nei giorni scorsi sono stati acquisiti i primi documenti da parte degli investigatori con gli accertamenti preliminari delle fiamme gialle. Sotto la guida del procuratore aggiunto Alessio Coccioli, in primis sotto i riflettori finiscono i costi lievitati, inizialmente stimati in circa 9 milioni di euro, sono poi saliti ad oltre 17 nel giro di un mese, sì ma come? Di mezzo ci sono cinque ordini di servizio aggiuntivi, le aggiunte ulteriori all'esito delle prescrizioni del policlinico e poi le forniture che ora saranno al vaglio degli inquirenti come tutto l'iter partito dal bando della protezione civile a novembre scorso e passato dalla consegna delle chiavi al commissario del nostro comio barese Vitangelo Dattoli e non ancora concluso dal momento che l'attivazione è ancora in corso, forse, destinata al via libera dei primi 102 posti letto entro fine mese 160 quelli complessivi di terapia intensiva e subintensiva si era detto ma resta aperta anche la questione del personale e poi ci sono gli interrogativi delle opposizioni in regione che pure avevano avanzato dubbi sul futuro dell'opera. La circolare ministeriale infatti richiede che i posti da incrementare siano strutturali, se dunque i moduli saranno smontati non si rischia di perdere il requisito in questione? Intanto incalo il numero dei ricoveri covid su territorio regionale. Secondo l'ultimo report di Agenas nelle terapie intensive il 27 per cento dei posti letto è occupato da pazienti infetti dal virus contro il 28 della settimana scorsa, tre punti in meno rispetto alla soglia critica fissata al 30.